Se riscontrate problemi nell'avviare Fortnite ovviamente è possibile risolvere questo problema sempre nell'antivirus quindi se l'antivirus ti blocca Fortnite vuol dire che ti blocca tutta la sua cartella e il programma stesso per avviare Fortnite quindi in questo caso andiamo un attimo sul nostro scudo di Windows Defender quindi questo qua, ci clicchiamo sopra, vai su protezione da virus e minacce scendiamo fino a giù fino a trovare gestisci impostazioni scendi fino a giù fino a trovare esclusione, aggiungi o rimuovi esclusioni io per non avere problemi riguardo a Fortnite all'apertura aggiungo così la cartella di Fortnite più la cartella di Epic Games nelle esclusioni quindi te basta fare aggiungi un'esclusione, vai nella cartella vai direttamente nel tuo disco e trovi così la tua cartella di Fortnite e fai selezione una cartella e lo aggiungerà qua se non dovesse funzionare possiamo sempre fare la stessa cosa anche con la cartella di Epic Games quindi vai a trovare la tua cartella di Epic Games ovviamente io l'ho installata in questo PC, disco locale C in programmi per 87 dovresti trovarla qua, Epic Games e se invece è l'isi anti-cheat, che forse ne so, Windows Defender blocca anche l'isi anti-cheat aggiungi anche la cartella dell'isi anti-cheat in selezione anche la cartella di Epic Games aggiungi un'esclusione possiamo fare file nella cartella di Fortnite Fortnite Game Binary 1.64 e ci metto il Fortnite Launcher e faccio apri basta una volta fatto, non ti resta che avviare Fortnite e vedere se si avvia eccolo qua in esecuzione ed ecco che Fortnite si è avviato connessione in corso quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema riguardo all'antivirus che ti blocca la cartella di Fortnite perché sicuramente è l'antivirus che ti blocca la cartella di Fortnite per questo non riesci ad avviarlo e ti esce anche la notifica dell'antivirus il programma Fortnite Win64 Shipping è stato bloccato dall'antivirus quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao